Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Voglio una città sicura e a misura d'uomo, dove i nostri nonni non abbiano paura ad uscire di casa e i nostri giovani abbiano un futuro, una città pulita e che punta il rilancio delle sue eccellenze commerciali e artistiche. Rivoglio Bologna